Il treno regionale veloce 28.14 in Tremità, proveniente da Venezia Santa Lucia, il treno regionale veloce 28.15 in Tremità, proveniente da Venezia Santa Lucia, il treno regionale veloce 28.15 in Tremità, proveniente da Venezia Santa Lucia, il treno regionale veloce 28.15 in Tremità, proveniente da Venezia Santa Lucia, il treno regionale veloce 28.15 in Tremità, proveniente da Venezia Santa Lucia, il treno regionale veloce 28.15 in Tremità, proveniente da Venezia Santa Lucia, il treno regionale veloce 28.15 in Tremità, proveniente da Venezia Santa Lucia,